buongiorno leonardo benvenuto a reggio miglia al campo volo pronto si è una basta ah va bene quando scendi mi dici com'è andata allora se eri davvero pronto no hai scelto tu a quindi sei consapevole della tua del tuo destino ottimo tutto chiaro se hai dubbi chiedi e non ti preoccupare allora ascoltami io adesso ti lascerai con lorenzo che finisce di imbragarti ti auguro di divertirti più che puoi e poi quando scendi mi dici com'è andata va bene ciao buon divertimento dire vedi dietro mi piace mi piace mi piace mi piace io mi piace a Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.